Benvenuti ai nostri telespettatori, dopo la consueta gita in barca a parlare di sacra scrittura, siamo qua invece con Mauro Baranzini, docente universitario, economista che si occupa da tantissimo tempo di economia e con lui vorremmo capire che cosa sta succedendo, la crisi globale che in qualche modo ha travolto i mercati, ha travolto la nostra economia così come la pensavamo fino ad oggi, ha fatto diventare una cosa comune, consueta, discussioni di questioni che normalmente sono per gli addetti ai lavori, ne vogliamo parlare con lui per capire che cosa sta succedendo. Torniamo indietro al Medioevo, prima del 1500 grosso modo, allora il risparmiatore e l'investitore di questi risparmi coincidevano, cioè il piccolo imprenditore, l'artigiano, il contadino risparmiavano e nel frattempo investivano quanto risparmiavano, il tipico esempio sono le sementi, una parte del raccolto deve essere messa da parte per l'anno successivo, non deve essere toccata durante l'inverno salvo in casi eccezionali e dunque il risparmio di un anno diventa l'investimento produttivo per l'anno successivo. Poi ad agio ad agio sono nate le banche, le banche sono del 1400, 1500, 1600, le prime banche, qualcuna ancora più antica, le banche sono diventate delle istituzioni dove la gente depositava i propri risparmi e queste banche prestavano i risparmi agli imprenditori che ne avevano bisogno per i loro investimenti, allo Stato che ne aveva bisogno per le sue spese oppure anche le famiglie che attraversavano un momento difficile. Ora la finanza fino a vent'anni fa è sempre stato, o il settore finanziario è sempre stato un settore di supporto all'economia reale, l'economia reale ha bisogno, penso alle fabbriche, di soldi per investire i nuovi macchinari, gli stati hanno bisogno di soldi per coprire il loro deficit, le famiglie hanno bisogno di soldi per il loro mutuo sulla casa, la loro ipoteca e dall'altra parte c'è un'infinità di famiglie che risparmia e porta i soldi in banca. Ora fondamentalmente il settore finanziario era e dovrebbe ancora essere questo intermediario tra il settore reale da una parte delle famiglie dall'altra. Ora questo settore finanziario negli ultimi 25 anni è diventato autoreferente, nel senso che ha cominciato lui stesso a cercare di produrre ricchezza, cercare di moltiplicare i panni e i pesci come si fa nell'economia reale e purtroppo le cose sono sfuggite di mano. Do qualche cifra, se la produzione nell'economia reale, nelle fabbriche, sui campi, negli uffici in Europa in questo momento è uguale a uno, c'è un patrimonio finanziario che gira incontrollato uguale a 19. Dunque è una massa enorme che si è generata da se stessa attraverso mille strumenti di ingegneria finanziaria e che in questo momento è quasi sfuggita di mano ai governi. Ma questo perché è virtuale, nel senso che i soldi non ci sono? I soldi, no, no, i soldi ci sono, rappresentano il risparmio di generazione e di anni delle famiglie, magari anche degli stati e delle imprese, non sono consumati e dunque la gente cerca di piazzarli nel miglior modo possibile, perché fruttino. Il problema è che sia i risparmiatori, sia le banche si sono illuse negli ultimi 20-25 anni di poter dare dei tassi di interessi dell'8, del 9, del 10, del 15% o addirittura ancora di più. Ora, il settore finanziario non può da solo produrre profitti, lo produce il settore reale, una parte è versato alle banche che lo ridistribuiranno ai risparmiatori, ma non riesce a generare i profitti da se stesso. Un altro dato, prima della prossima domanda. Fino a 20 anni fa il settore finanziario americano produceva circa il 5% dei profitti totali degli Stati Uniti, con circa il 6-7% dei dipendenti totali dell'economia americana. Siamo arrivati a livello del 30-35% dei profitti generato da un settore finanziario che impiega l'8% della manodopera. Cioè c'è stata una crescita di produzione di finanza, delle aspettative di produzione di profitti e di interessi che non ha potuto tenere il passo con l'economia reale. A questo punto viene spontanea la domanda. C'è il solito conflitto che si pone fra un mercato che funziona liberamente e un mercato che bisognerebbe controllare attraverso delle leggi. È giusto muoversi in questa logica di contrapposizione fra regolamentazione e libertà di mercato oppure è un taglio sbagliato, non si va da nessuna parte? Se la libertà di mercato e la libera iniziativa liberale avesse rispettato i canoni della prudenza, della sostenibilità e dello sviluppo non disordinato della finanza, allora non saremmo in questa situazione. Il problema è nato in questo modo. L'attuale bolla che è scoppiata negli Stati Uniti ma non è l'unica. Ci sono altre bolle come quelle della carta di credito che stanno per scoppiare e che probabilmente nei prossimi mesi non ci permetteranno di risolvere la situazione. Allora, la concessione di mutui, di prestiti ipotecari ai cittadini americani di relativamente basso reddito e medio reddito è diventata una cosa interessantissima per coloro che riuscivano a piazzare queste ipoteche perché prendevano una percentuale molto alta sugli affari fatti. Si sa che ci sono dei funzionari dell'istituzione finanziaria e di banca che hanno falsificato il certificato di salario di chi chiedeva un'ipoteca. Una signora diceva io guadagno 15 mila dollari all'anno il tipo lo ha falsificato in 35 mila dollari. Per far cosa? Per convincere la banca che quella era un'ipoteca buona e giusta da arsi e abbastanza sicura. In più c'è stato un altro fenomeno. In modo artificiale il prezzo delle case è aumentato molto e man mano che il valore delle case saliva, le famiglie incitate a spendere e espandere dallo Stato ma da mille altre pubblicità e da mille altri attori economici andavano in banca e chiedevano una seconda, terza, quarta ipoteca man mano che il valore delle case saliva. Come è sempre successo nella storia, tutte le cose anormali presto o tardi scoppiano e scoppiate evidentemente molte famiglie a medio reddito o medio basso reddito non sono più state capaci né di pagare gli interessi sull'ipoteca che salivano negli ultimi anni fino a sei mesi fa né di pagare l'eventuale ammortamento. Da lì è partita è stata onesca la catastrofe della finanza mondiale degli ultimi mesi. Però io sono piuttosto disorientato quando i meccanismi di oscillazione della finanza, quindi della borsa, sono così rapidi, senza nessuna relazione con per esempio l'andamento di un'industria o di una banca. Gli operatori finanziari sono così stupidi. Allora, questo aspetto viene definito con il termine di volatilità, che mi piace poco ma è tanto utilizzato. Volatilità vuol dire che in base a speculazioni al rialzo o al ribasso i valori delle azioni, ma anche delle materie prime e di altre merci schizzano verso l'alto e verso il basso con delle variazioni in termini percentuali estremamente alte. Perché? Intanto perché c'è l'effetto leva. Diversi nuovi marchigeni finanziari consistono in questo. Io ho due franchi, però la banca mi permette di scommettere per 50 volte i miei due franchi, cioè 100 franchi. E allora ci posso guadagnare 20 franchi, ma ci posso anche perdere 98 franchi e farli perdere la banca, come è successo alla Banca dello Stato 4-5 anni fa, quando un vicepresidente del Consiglio d'amministrazione ha utilizzato questi strumenti leva. L'altro aspetto terribile è che si può vendere e comprare cose che non si posseggono, cioè recentemente si è proibito a chi opera in borsa di vendere delle azioni che non hanno fisicamente in mano, ma fino a poco tempo fa lo si poteva fare, anche se non si possedeva la merce, si poteva comprare e vendere petrolio, comprare e vendere azioni, comprare e vendere oro e tante altre cose. Purtroppo la speculazione è arrivata non solo sul petrolio, ma è arrivata anche sulle materie prime e soprattutto sulle derate alimentari. Il prezzo del grano, tra le altre cose, è schizzato su perché molti hanno cominciato a speculare sul prezzo del grano, speculando poi sulla fame di molte persone del terzo mondo che non potevano permettersi di comperare le materie alimentari o gli alimentari a questo prezzo. Si calcola che ogni volta che il prezzo del grano aumentava del 10% virano 800 mila persone nel mondo che avrebbero fatto la fame. Ecco, questi sono gli aspetti più deleteri di una finanza totalmente sfuggita di mano. Ora, l'uomo dalla strada si dirà, ma cosa facciamo? Eh beh, bisogna rimboccarsi le maniche e fare quello che noi chiamiamo un Bretton Woods numero due, cioè un nuovo accordo sulla finanza internazionale, come si è fatto nel 1944 alla fine della seconda guerra mondiale, coinvolgendo tutti i paesi più importanti per impedire che queste cose abbiano a ripetersi nel futuro. Un accordo che cosa significa? Un accordo potrebbe essere, ad esempio, che la maggior parte dell'ingegneria finanziaria, penso agli hedge funds, penso alle vende e acquiste di cose che non si posseggono, siano proibiti, come hanno fatto diversi governi, a proibire la vendita di azioni che non si posseggono. Oppure, semplicemente, con altri strumenti, controllare la crescita disordinata dei mercati finanziari, controllare i tassi di cambio delle valute, aiutare soprattutto i paesi del terzo mondo che fanno fatica, con noi accordi del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Semplicemente si tratta di regolamentare un settore che è totalmente sfuggito al controllo e delle banche centrali e dei governi. Guardi, io non sarei capace a fare un piano simile, comunque ci sono le risorse alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario, speriamo nella nuova amministrazione americana che devono mettersi assieme. Non ci sarà un nuovo Keynes, però ce ne saranno degli altri, perché nessuno è insostituibile. Un modo di fare economia indica un modo di pensare il mondo, di pensare la realtà, di concepirla. Allora, è possibile utilizzare dei meccanismi in fondo, tecnici, per modificare poi di fatto qualcosa che tecnico non è? Sì. Allora, guardi, io credo che, ripensando sempre alla storia alla quale i grandi economisti si riferiscono sempre. Noi vediamo che, ad esempio, la Chiesa Cattolica, o ad esempio l'Islam in questo momento, hanno per tanto tempo, non hanno accettato il principio dell'interesse sui soldi prestati. È stata la riforma del XVI secolo, con Calvino, Zwingli e altre ancora, che ha introdotto il permesso, direi, di avere degli interessi o di fare dei profitti sui capitali prestati. Probabilmente nel XV e XVI secolo, alla vigilia delle rivoluzioni industriali, occorreva introdurre una retribuzione per i capitali a risparmio e i capitali investiti, altrimenti le rivoluzioni industriali non sarebbero partite. Però è ovvio che le aspettative di guadagnare soldi, semplicemente prestandoli e non facendo niente, sono andate crescendo col tempo. Quando molti risparmiatori italiani, purtroppo mal consigliati dai loro consulenti bancari, dicevano, no, io voglio acquistare obbligazioni argentine al 10%, quando l'inflazione era solo il 2-3%, avrebbero dovuto capire che c'è qualcosa che non funziona. Nessuno può premettere tassi di interesse molto alti quando l'economia reale fa solo il 3-4-5% di profitti. Ecco, in un certo qual senso, la greediness, dicono gli inglesi, il desiderio di fare soldi da parte sia dei risparmiatori e di illuderli da parte dei consulenti bancari ha scatenato questa crisi, in un certo qual senso. Io credo che dovremmo tornare a un punto dove il risparmiatore può solo sperare di ottenere, io dico sempre, un 2-3% dei propri risparmi, perché? Perché i soldi devono essere investiti in nuovi macchinari, in nuovi processi produttivi, in nuove fattorie, in nuove ferrovie qui sotto il Gottardo, quello che vuole lei, ma non riusciranno mai a dare un profitto tale da poter dare un interesse del 10% sul capitale prestato. Credo che qui dobbiamo riintrodurre un principio etico importante e cioè che non si può pensare di fare tanti soldi semplicemente prestando dei soldi a qualcun altro. Se occasionalmente si tirano fuori degli interessi molto alti o dei profitti alti, io dico subito che c'è qualcosa che non funziona. D'altra parte l'Islam non accetta il concetto di interesse, se lei mette i soldi in una banca islamica lei riceverà un rimborso spese ma non è chiamato interesse, per la stessa ragione per la quale la Chiesa Cattolica fino al 1500 ha sempre sostenuto che il tasso di interesse è qualcosa di non giusto. Quindi il concetto di usura oggi è legato ad un interesse molto alto, per la Chiesa era invece un concetto legato all'interesse in sé, cioè prendere dei soldi perché li presto non è giusto. Direi una cosa di più, il fisco inglese chiama i profitti e gli interessi guadagnati sui risparmi o sui pacchetti azionari, li chiama unearned income, cioè un reddito non guadagnato ed è un'espressione molto bella, non è poi lontana molto dalla filosofia anglosassone in certi momenti, è un'espressione molto bella per dire che è un reddito non guadagnato, è un reddito che viene capito a qualcun altro. Ora è chiaro che questo deve far riflettere molto coloro che staranno mettendo mani, spero nei prossimi mesi, a nuovo sistema, a nuovo ordine finanziario internazionale. C'è una teoria in qualche modo che serpeggia all'interno di tutto il discorso economico ma anche in altri settori, penso alla questione ambientale, penso ad altre cose di questo genere, che è il concetto di carenza, cioè non ce n'è abbastanza per tutti. Lei diceva prima però invece i soldi per esempio ci sono, non è vero che non ci sono, per cui di fatto le risorse ci sarebbero, non è vera quest'idea per cui manca tutto, non solo ma probabilmente investendole giustamente le risorse ci sono. Io vorrei citare Amartya Sen, l'economista indiano che adesso insegna negli Stati Uniti a Havat, il quale ha dimostrato che le carestie in India e in Cina non erano dovute a quelle terribili carestie che hanno causato centinaia di migliaia di morti degli ultimi secoli fino a circa 30 anni fa, non erano dovute a una scarsità di produzione di generi alimentari ma semplicemente all'incapacità del sistema di distribuire bene queste risorse, scarse evidentemente ma sarebbero state sufficienti, cioè c'erano dei meccanismi all'interno del sistema distributivo che non funzionavano. Ora io dico sempre che l'economia non è la scienza che studia le risorse scarse, le risorse ci sono per bacco, oggi in Svizzera ci sono 100.000 disoccupati ufficiali ma in effetti sono 200-220.000 le persone alla ricerca del posto di lavoro, oggi nelle fabbiche svizzere se noi entrassimo vedremmo molte macchine che sono messe sotto la naftalina perché non girano, semplicemente perché la domanda scarseggia. Ora abbiamo un'enorme capacità di produzione, una capacità di soddisfare tutti i bisogni anche dei meno fortunati in Svizzera e nel mondo semplicemente non sappiamo far funzionare bene la macchina dell'economia che ha offerto una medicina che non sempre funziona ma comunque è importante se non è l'economia privata far girare le ruote dell'economia sia lo Stato di intervenire a rilanciare l'economia attraverso maggiori spesi statali, maggiori consumi statali, maggiori piani di aiuto alle categorie meno fortunati e poi le ruote dell'economia gireranno, semplicemente bisogna avere fiducia in questo meccanismo statale che talvolta produce degli effetti non sempre positivi ma è chiaro che se da se stessa l'economia non trova l'equilibrio evidentemente non riusciremo a risolvere il problema della povertà. Quindi lo Stato come impresa, come imprenditore? Lo Stato come imprenditore, però un imprenditore intelligente che non scoraggia l'iniziativa privata che pur deve restare, che non diventi un centro di inefficienza, di gente che abusa non lo so, della posizione, della sicurezza di un posto statale e dunque un misto di pubblico privato come tutto sommato. La Svizzera negli ultimi 50 anni ha scelto con delle pecche evidentemente ma un sistema che funziona. Non sarei d'accordo per delle nazionalizzazioni nello Stato che entra dappertutto come ha fatto in Francia e in Inghilterra con disastri immensi abbiamo visto negli anni 70 e negli anni 80. Un'altra questione che mi viene in mente riguarda, a proposito di questo problema dello sviluppo, riguarda il concetto di assistenza. Perché si continua a rimanere questo sbilanciamento per cui i paesi del sud del mondo vengono assistiti ma non viene promosso il loro sviluppo reale? E' una domanda estremamente difficile. Io credo che ci sono delle difficoltà oggettive. Intanto la popolazione di questi paesi meno fortunati non ha la formazione, non ha la capacità di lavorare assieme purtroppo per ragioni storiche e non ha ancora le strutture organizzative necessarie per far funzionare l'economia con i nostri criteri. Secondariamente credo che le nostre multinazionali non sono molto interessate a promuovere la crescita in loco, altrimenti gli viene a mancare buona parte del lavoro. Poi bisogna dire che queste popolazioni sono terribilmente sfortunate. Da una parte hanno una dinamica, cioè hanno nascite per ogni donna che vanno da 5 fino a 8 secondo certi stati e l'agricoltura, l'economia può solo sopportare una crescita demografica più bassa. Però è vero anche che là dove i paesi si sviluppano automaticamente il tasso scende. Oggi si investe in termini di campagne di natalità grosse che non servono poi granché. Certo, lei ha ragione, però bisogna fare il passaggio di una generazione da una situazione di sottosviluppo a una di sviluppo per poter ottenere un contenimento delle nascite che magari non è compatibile con la loro religione, con la loro filosofia, con la loro storia, con la loro mentalità. Noi sappiamo che le donne africane che vengono a abitare in Europa, nella seconda e terza generazione hanno meno figli, si addigono immediatamente ai nostri parametri. Però non sappiamo cosa succederebbe se potessero avere lo sviluppo in loco e dunque poter stare in loco e migliorare il loro standard di vita. È un enorme grosso problema. Non dimentichiamo che non dobbiamo sempre cercare di risolvere i problemi dello sottosviluppo con i nostri occhiali. Dovremmo mettere ogni tanto anche i loro occhiali. L'argomento che abbiamo trattato oggi non lo chiuderemo sicuramente qua. Prossimamente avremo con noi anche Mainrado Robbiani per approfondirlo da un'altra angolazione. Ringrazio il professor Baranzini di essere stato con noi e vi do appuntamento come di consueto alla settimana prossima. Arrivederci!